Vedi, Carlo, il cuore di una donna è una cosa strana, ho ragione, no? Hai ragione, Camilla. Vedi, Carlo, il cuore di una donna è una cosa fragilissima, giusto, Dora? Giusto, sì. Vedi, Carlo, il cuore di una donna è una cosa fragilissima, giusto, sì. E quando una donna muore il marito, il suo cuore si fa in tuma, o si fa in tuma, si fa in tuma, si fa in tuma, si fa in tuma, va in migliaia pezzi, e quando la donna cerca di rimettere insieme i pezzi, si accorge che la metà del suo cuore è lì sotto tempo, dove è scritto sulla lapida il nome del marito. E allora cosa deve fare, povera donna, povera donna, povera donna, deve scendere il campo!